Buonasera a tutti e benvenuti. L'ambientino è sempre simpatico in Vaticano. Simpatico perché con un modo affabile, lento, quasi disinteressato, all'interno delle mura vaticane per quanto riguarda una sorta di politica interna vaticana, si spostano, si girano, si voltano, si muovono pedine, si avvicendano cariche importanti. Di cuccioli di rovo perché il belloccio, comunque lo abbiamo identificato così anche diversi anni fa, quando era segretario particolare di Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, George Gansvain, ripeto 64enne oggi, belloccio, prelato molto gradevole, visto e adocchiato anche proprio per le sue caratteristiche fisico-estetiche a fianco di Papa Ratzinger, ripeto però oggi prefetto della Casa Pontificia anche con Papa Francesco, se ne va. È stato, diremmo, licenziato dal compito di prefetto della Casa Pontificia, ovvero di segretario particolare di tutte le questioni che riguardano Papa Francesco, è stato licenziato, ovvero trasferito ad altri incarichi, perché il termine licenziato lo vediamo noi italiani per quelle che sono le nostre valutazioni di diritto del lavoro. Là non vengono licenziati, vengono ridistribuiti altri incarichi, altre questioni, ma con grande serenità, con grande pace, senza nessun tipo di problema personale. In realtà, diciamo che la figura di George Gansvain, segretario particolare di Papa Francesco, grande amico e segretario chiamiamo particolare del Papa Emerito Ratzinger, diciamo che paga questo Monsignore presumibilmente quel gesto un po' di ribellione o comunque di ritorno sulla scena di Papa Ratzinger insieme al, Papa Emerito Ratzinger, insieme al Cardinal Sara, in quel libro dove si avverte un po' Papa Francesco in merito ai pericoli per quanto possa essere la rottura del vincolo del celibato. E, insomma, questa ipotesi fondamentalmente è quella che viene più alla luce nel momento in cui se ne va anche questo ulteriore uomo di Papa Emerito Ratzinger, già prefetto pontificio con Papa Francesco. Ecco, poi ovviamente ricordo che in questo libro un po' scandalo, un po' preoccupante per la Chiesa Cattolica, lo stesso Papa Ratzinger aveva ritirato la propria firma o comunque fatto un'ammissione, una biura, tra virgolette, della propria partecipazione, ma il libro è uscito lo stesso, con la stessa firma. E, vabbè, insomma, forse la colpa di Padre George è stato quello di non aver informato Papa Francesco dell'uscita di questo libro che Papa Emerito Ratzinger stava già lavorando insieme al Cardinal Sara. Sta di fatto che così anche forse la circostanza che Padre George al mattino o comunque continui a vivere a fianco di Papa Ratzinger all'interno dei Giardini Vaticani nel monastero Mater Ecclesie per poi recarsi la mattina a servire il Papa attuale, Papa Francesco, anche questa vicenda non poteva forse reggere, anche se il Padre George è stato per circa sette anni a fianco di Papa Francesco. Ora, ribadisco, tutto questo non è un licenziamento, è un avvicendamento. Già il Monsignor Sapienza numero due della Casa Pontificia, della Prefettura della Casa Pontificia, si fa vedere a fianco di Papa Francesco, però qualche altro movimento è arrivato anche perché il buon Papa Francesco così magari incassa quando deve incassare, ma sempre con un certo stile e senza assolutamente emozioni negative, restituisce o comunque avvicenda evidentemente perché così si doveva fare, anche questo ultimo tassello che collegava o lo collegava a Papa Ratzinger all'interno delle mura vaticane. Grazie.